c'è un brano che voglio condividere con voi da luca capitolo 13 a partire dal verso 22 si parla di una porta stretta e il discorso si origina da una domanda che un uomo fa ed è una domanda interessante che merita una attenta riflessione e il tema trattato in questi versi che leggeremo dal capitolo 13 dal verso 22 al verso 30 sono quanto mai attuali e importantissimi per noi credenti di questi tempi leggiamo dunque da luca capitolo 13 a partire dal verso 22 egli attraversava città e villaggi insegnando e avvicinandosi a gerusalemme un tale gli disse signore sono pochi i salvati ed egli disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta voi stando di fuori comincerete a bussare alla porta dicendo signori aprici e gli rispondendo vi dirà io non so da dove venite allora comincerete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ed egli dirà io vi dico che non so da dove venite allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità là ci sarà il pianto e lo stridore dei studenti quando vedrete abramo e isacco e giacobbe e tutti i profeti nel regno di dio e che voi ne sarete cacciati fuori e ne verranno da oriente da occidente da settentrione da mezzogiorno che si siederanno a mensa nel regno di dio ed ecco ve ne sono degli ultimi che saranno primi e dei primi che saranno ultimi il tema trattato è un tema fondamentale di assoluta importanza è cruciale è tutta la parola di dio ruota intorno a questo alla salvezza la bibbia infatti presenta la caduta dell'uomo e quindi l'ingresso del peccato e con esso la morte e il giudizio e il piano redentivo del nostro dio il quale ha dato gesù cristo per la salvezza dei perduti perché è importante ma perché la perdizione è tremenda è atroce è indescrivibilmente dolorosa angosciante tremenda qualcuno ha provato a descriverla ma non ci sono parole per poter misurare un eterno tormento dal quale non ci sarà né via d'uscita né cambiamento ed è quindi un tema che deve spingere il cuore degli uomini a considerarlo attentamente per se stessi ma non solo anche per la salvezza degli altri e cristo soffre patisce subisce il nostro giudizio per liberarci dall'ira a venire da questa eterna perdizione dove appunto come descritto ci sarà il pianto e lo stridor di denti la domanda posta riceve una risposta diversa da quella che chi la posta si attendeva sono pochi i salvati quanti entreranno nel tuo regno saranno in tanti o saranno in pochi e gesù non risponde a queste domande il numero la quantità le persone coinvolte al signore interessa che gli uomini considerino come entrare nella porta che conduce alla salvezza e risponde non numericamente ma risponde così sforzatevi di entrare per la porta stretta per cui vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta e voi stando fuori comincerete a bussare la porta dicendo signore aprici e gli rispondendo vi dirà io non so da dove venite allora comincerete a dire noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ed egli vi dirà io vi dico che non so da dove venite allontanatevi da me voi tutti operatori di iniquità che cosa emerge da questo da questo passo emerge che v'è una realtà una realtà nel quale esiste una condizione di perdizione una condizione cioè di uomini sottoposti al giudizio ed esiste una porta che fa uscire da questa condizione e immette in un'altra realtà che è la salvezza morte e perdizione salvezza e vita eterna e c'è una porta ora questa porta è cristo giusù stesso è lui che introduce dal regno di morte sottoposti al diavolo con il peccato e tutto il turbamento che una vita lontana da dio nel peccato conduce ad una realtà diversa vedete una cosa che ripeto sempre quando dico quando parlo della porta stretta è che quando si attraversa una porta si lascia a un ambiente e si entra nell'altro non si può entrare e rimanere a metà se tu esci entri in un altro ambiente se tu entri esci da un altro ambiente perché dico questo perché purtroppo salvezza è un termine che è stato ridotto quasi a nulla ed è per questo che quegli uomini rimasero esclusi perché non compresero il senso il significato della parola salvezza e vedete nella mente forse di chi ha posto la domanda c'era questo ma quanti entreranno nel tuo nel tuo cielo e quanti invece rimarranno all'inferno il problema era o la sofferenza o la gioia ma il regno di dio non è solo questo quando tu esci dal regno di morte tu entri nel regno di dio vedete gesù dice quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta cioè tu stai entrando in casa di dio quando sei salvato tu stai entrando nella casa del padre tu devi entrare come figlio nella casa del padre e va da sé quindi che essere salvati non vuol dire una pacca sulla spalla e dire vai te è andata bene sei liberato dall'inferno vuol dire essere trasformato vuol dire abbandonare ciò che eravamo ed abbracciare un'altra realtà vuol dire uscire da una condizione per abbracciarne un'altra vuol dire essere stato qualche cosa e divenire esattamente l'opposto vuol dire essere stato schiavo delle tenebre ed entrare nella luce vediamo di analizzare un po quello che cosa quello che non può passare dalla porta stretta sicuramente non possiamo portare il nostro peccato dio è perfettamente separato dal peccato se vuoi entrare in quella porta stretta tu non solo devi avere i tuoi peccati espiati dal sangue di gesù per mezzo della fede ma devi essere anche santificato non puoi pensare di attraversare la porta goderti la salvezza gustarti l'eternità di gioia però portandoti quel peccato che a te piace tanto rimanendo nel compromesso col peccato da quella porta stretta il peccato non entra non può entrare ed è per questo che la parola di dio dice or senza santificazione nessuno vedrà dio e il punto cruciale è questo il punto fondamentale il punto primario per cui cristo muore per purificarci dal nostro peccato altrimenti là dentro io e te non potevamo entrarci ma oltre all'espiazione cioè alla cancellazione per mezzo del sangue di gesù di ogni nostro peccato noi dobbiamo comprendere che se siamo figli e se vogliamo vivere nella casa del padre io e te con il peccato dobbiamo chiudere ed è chiaro che siamo combattuti ed è chiaro che il peccato ci combatte perché purtroppo vive ancora in noi ma è per questo che lo spirito di dio ti è stato dato per avere in lui la forza di annichilire la carne ed è questa la gloriosa vittoria di chi è figlio di dio quello di combattere perché con il peccato ha chiuso ecco perché entrando per questa porta chi vuole entrare sa che con il peccato non deve avere più nulla a che fare e che per mezzo dello spirito egli vivrà per contrastarlo sempre ma c'è un altro aspetto che non è affatto secondario vedete la parola di dio dice che finché siamo nel peccato siamo sottoposti al principe di questo mondo per compiere il suo volere e seguire l'andazzo di questo mondo ma da quest'altro lato della porta non è così da quest'altro lato c'è dio che è il signore ora sapete quanto poco noi comprendiamo la parola signore per noi è semplicemente un titolo si usa anche quando dobbiamo chiamare qualcuno è il signor tal dei tali ma il termine signore rivolto a dio è un altro discorso signore è colui che ha l'autorità signore colui che ha il potere signore colui che si serve senza riserve signore colui dinanzi al quale il nostro volere si piega signore signore è colui che è degno di ricevere ogni obbedienza ogni onore ogni gloria signore è colui dinanzi al quale il nostro io diventa nulla e qua il discorso è un po è un po diverso allora vedete gesù disse considerate sempre questa porta disse a coloro che stavano ancora nel lato oscuro della porta e disse se uno vuole venire dietro a me rinunzi a se stesso il tuo io è troppo ingombrante per passare per quella porta non puoi non puoi pensare di continuare a servire la tua volontà di continuare a innalzare a sovrano il tuo volere i tuoi desideri il tuo cuore non puoi pensare di piegare ogni cosa secondo la tua volontà e di entrare da questa parte riesco a spiegarmi se uno vuole venire dietro a me cioè vuole entrare nel mio regno perché il signore è venuto da questo lato si è fatto peccato per noi ma la morte non l'ha trattenuto è risolto è asceso è tornato dal luogo dal quale era venuto ha attraversato la porta ma è rientrato se uno vuole venire dietro a me se uno vuole vivere dove io vivo se uno vuole stare dove io sto deve sforzarsi deve sforzarsi deve combattere il buon combattimento della fede deve resistere alle tentazioni diaboliche deve uccidere il proprio io deve abbandonare il peccato e per mezzo dello spirito purificato da tutte queste cose allora potrà entrare attraverso questa porta perché questi rimasero delusi troppa superficialità vedete il regno di Dio da molti pulpiti è stato ridotto ad una formula ma non è una formula è una scelta di vita è un combattimento a volte è un'agonia è una lotta contro se stessi è un negare se stessi è un inchiodare la propria carne è un opporsi alle orde diaboliche è un combattere contro il peccato è un voler servire Dio quando il tuo cuore ti dice di no è negare se stessi per innalzare il volere di Dio è un combattimento che deve portare l'uomo a innalzare nella propria vita sempre Dio vedete non si può prendere l'intera Bibbia e dimenticarla e dire se hai confessato Gesù come tuo Salvatore sei salvato confessare come Gesù come proprio Salvatore lo fa una vita piegata al volere di Dio colui che ha negato se stesso purgato alla sua vita dal peccato colui che ha cercato nella santità la gloria di Dio questo è colui che confessa il Cristo nella propria esistenza questa è la vita di chi professa il nome del Signore Gesù non possiamo dire semplicemente l'ho detto con le labbra certo il cuore è rimasto quello che era la mente è rimasta quella che era i miei desideri sono rimasti quelli che erano però ho detto la parola magica è dentro no rimani fuori ma come non abbiamo noi ascoltato i tuoi insegnamenti non abbiamo noi bevuto e mangiato alla tua presenza forse fa riferimento anche alla cena del Signore questo fatto non abbiamo noi detto fatto ma io non vi ho mai conosciuto non vi ho visti alla mia presenza agonizzare non vi ho visto piangere per combattere contro il vostro io contro il peccato non vi ho visto piegare il vostro cuore dicendo Signore solo il tuo volere Signore voglio essere come tu mi vuoi voglio compiacerti voglio servirti voglio amarti di più voglio rinunciare ad ogni cosa pur di innalzare il tuo nome nella mia vita sforzatevi di entrare per la porta stretta e quando la porta è stretta quando la porta è stretta devi liberarti dai pesi che porti addosso dai bagagli te ne devi liberare o in quella porta non c'entri non basta vedete dire oh ma no 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 io sto alla presenza del Signore vado in chiesa oh no 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 io conosco la parola di Dio per carità io amo Dio nel mio cuore sforzati di entrare le tenebre rimangono da questo lato il tuo io rimane da questo lato il peccato rimane da questo lato e da quello entra ciò che somiglia a Cristo un cuore rigenerato un cuore che vive per compiere il suo volere meditavo quest'oggi un personaggio della Bibbia che io amo tantissimo ve ne parlo spesso ed è Filippo Filippo nel capitolo 8 degli atti degli apostoli è sospinto da una brutta perseguzione a scappare deve andarsene da Gerusalemme si deve allontanare e e se ne va fuggiasco in Samaria e lì in mezzo a questo popolo che aveva confuso peccato e santità che aveva confuso il paganesimo con Dio comincia ad evangelizzare considerate che quest'uomo Filippo sta scappando ma ovunque lui ed altri vanno annunciano il lieto messaggio della parola di Dio e mentre si muove lo spirito di Dio attraverso di lui compie opere straordinarie al punto che la gente ne rimane così colpita che accorre numerosa l'intera città ad ascoltare e tutti si ravvedono tutti abbandonano il vecchio modo di vivere e quest'uomo Filippo manifesta al mondo nelle tenebre il regno di Dio Filippo aveva attraversato la porta aveva lasciato da questo lato il peccato ma aveva lasciato anche il suo io e adesso viveva solo e trovava il suo compiacimento solo nel suo Dio e i frutti i segni della sua completa arresa lo accompagnavano a un certo punto sparisce da un luogo appare nell'altro lo spirito di Dio gli parla un angelo gli parla ma Filippo ma dove sei sono da quest'altro lato della porta ho rinunciato a me stesso vivo solo per servire l'Eterno mi compiaccio solo in Lui e nel suo compiacimento in me desidero solo amarlo ed essere amato vivo con lo sguardo verso il cielo nell'attesa del suo ritorno quando Egli mi prenderà e mi porterà con sé e la mia vita e compiere il suo volere sentire l'azione efficace del suo spirito sentire sentirmi avvolto dalla sua potenza vedere chi è nelle tenebre salvato dalla potenza dello spirito per mezzo di questo strumento indegno che pure Dio ha eletto da che lo ha strappato da questo lato della porta e lo ha portato da quest'altro e Filippo non è più un uomo che insegue i traguardi di questo mondo non è più un uomo che ragiona con la mentalità di questo mondo non è più un uomo schiavo del peccato non è più un uomo asservito al proprio io è un uomo che vive così come dice Gesù come un angelo cosa intendo padre nostro che sei nei cieli questa era la preghiera che Gesù ha insegnato ai suoi discepoli padre nostro che sei nei cieli venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra guardate Filippo guardatelo ha reso al volere di Dio al punto che il Signore dice e lui risponde eccomi sono qui per fare la tua volontà fratelli non mettete un cartellino non vi freggiate della salvezza perché appartenete ad una denominazione sforzatevi di entrare e lasciate ciò che non appartiene al regno di Dio fuori mettetevi alla prova mettetevi alla prova state dinanzi alla presenza di Dio chiedetevi se la vostra vita rispecchia gli insegnamenti del Signore chiedetevi se lo Spirito di Dio sta agendo in voi per santificarvi per purificarvi per annichilire il vostro io e innalzare Dio in voi mettetevi alla prova perché questo brano che abbiamo letto in Luca è un brano che parla di una chiesa che rimarrà delusa di una chiesa che arrivata alla porta si renderà conto di non avere i requisiti per entrare e si dirà Signore ma noi ma non era questo la salvezza non era frequentare un locale di culto non era dare un po' di offerta la domenica non era dire io conosco la parola di Dio e non sono un religioso non era io non seguo più gli idoli non siamo stati noi ad ascoltare le predicazioni ma questo dice il Signore è il punto io non so da dove venite io e voi non abbiamo avuto relazioni il mio spirito non è stato con voi il mio spirito non ha conquistato la vostra vita non l'ha trasformata non l'ha purificata per mezzo del sangue di Gesù la vostra vita è rimasta quella che era avete cambiato etichetta ma non il cuore il vostro Signore è stato ancora il vostro io e il vostro peccato non si è staccato dal vostro cuore fratelli non riduciamo la salvezza a un nulla la salvezza è il regno di Dio in noi nella sua gloria bellezza santità nel desiderio infinito che esplode nel cuore di vedere Cristo formato in noi e di essere piegati dinanzi la sua Signoria per cercare il suo volere avendo tagliato i ponti con tutto ciò che apparteneva al regno delle tenebre il peccato la Signoria di Satana è il nostro io Signora donami di fissare attentamente quella porta e di entrarvi secondo l'opera di salvezza che lo Spirito di Dio compie trasformando mente e cuore di colui che l'attraversa egli si ha trasportato dalle tenebre nel suo glorioso regno che differenza peccato santità io Dio Signore voglio fare il tuo volere voglio essere come tu mi vuoi chiniamo il capo in preghiera